Allora prima di tutto per mio fratello e per me è un obiettivo che abbiamo perseguito continuando quello che era diciamo la direzione già disegnata dal nostro padre. Gli Stati Uniti sono un paese estremamente importante da un punto di vista di scienza, di tecnologia e anche di dimensioni del proprio mercato e però bisognava approcciare quest'area con prodotti di alta specializzazione e il nostro successo nello sviluppo di questo farmaco oncologico per il tumore al seno metastatico in particolare è stato l'elemento importante per il successo di Menarini negli Stati Uniti. Grazie.